E voglio anche a dire a chi immagina, attaccando me, di indebolire il governo, lasciate perdere, perché questo governo è attrezzato per respingere gli attacchi, questo governo è attrezzato per portare avanti il cambiamento, perché siamo il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno, per cui non ci fermeranno le bugie, le maldicenze. Noi continueremo ad andare avanti, senza arroganza, ma con la libertà e il coraggio di chi sa di dare veramente all'Italia una nuova opportunità. Grazie. Bene, allora, colleghi, passiamo. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Do quindi la parola al deputato Pino Pisicchio. Prego, deputato. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, Ministra Boschi. La dottrina collega la mozione di sfiducia individuale alla verifica della sussistenza del rapporto di fiducia previsto dalla nostra Costituzione, l'articolo 94, tra Parlamento e singoli ministri, cioè tra la maggioranza e il governo destinatario del suo consenso. Se questo rapporto dovesse spezzarsi, con il venir meno della fiducia, il Ministro avrebbe l'obbligo delle dimissioni.